ora diciamo un'altra cosina finale prima di passare ad altre cose sulla creazione del personaggio a questo punto quando avete creato numericamente il vostro personaggio in tutto e per tutto non dovete fare altro che dargli un nome e delle caratteristiche fisiche quelle che più volete sempre rispettando un minimo i criteri della razza che avete scelto mi raccomando quindi dategli un nome dategli un'altezza dategli un peso dategli delle caratteristiche fisiche dategli comunque come abbiamo detto prima un allenamento dategli un carattere dategli un background al di là del background che scegliete tra quelli presenti nel libro magari inventatevelo però fate lavorare l'immaginazione parlate col master scegliete magari un piccolo privilegio che vi può dare la classe scegliete due abilità e inventatevi anche il vostro passato questa è una cosa molto bella perché questo gioco fa sì di poter usare l'immaginazione fino all'infinito questo è il bello di dungeons and dragon anche i linguaggi stessi parlati ci sono linguaggi dei più esotici linguaggi dei meno esotici magari spiegate perché il vostro personaggio sa parlare in giapponese o in cinese o in qualche lingua particolare o magari un nano che sa parlare l'orchesco o un nano che sa parlare il sottocomune insomma o un nano che parla l'elfico ad esempio fate lavorare l'immaginazione insomma 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 Grazie a tutti.